Come è stato per te gareggiare con la nazionale dopo tanto tempo in una gara del calibro di un pre-europeo? Beh è stato molto bello, è tanto tempo che non gareggiavo perché ho avuto un'infezione al piede che mi ha tenuto fuori dagli off e adesso mi sono ripreso del tutto e cercherò di fare gli europei di Sofia. Visto il passaggina 1 di quest'anno con la tua squadra Nardi Juventus, cosa ti aspetti dal campionato di Serie A dell'anno prossimo? Cercheremo di vincere e fare il meglio possibile per tutta la squadra e io punterò sempre a fare il massimo. In base ai punteggi di oggi chi secondo te ha la possibilità di andare agli europei di Sofia di quest'anno? Ma non voglio sbilanciarmi molto ma penso che Nicola, Marco, Andrea e io ho fatto il mio dovere diciamo oggi e c'è un altro posto che è da decidere che deciderà poi Paolo. Comunque abbiamo notato un ottimo punteggio e il tuo punteggio a sbarra è stato il migliore di giornata junior. Quali sono i tuoi obiettivi per la fine di quest'anno? Beh sicuramente gli europei e se riuscissi a fare tutti gli attrezzi europei punterò a fare le Olimpiadi giovanili. Bene, grazie e un bocca al lupo. Grazie a tutti.